Ma non diciamo puttanate, vi hanno fatto credere che Provenzano fosse e sia il capo della mafia. Ma a chi? Per poter riciclare 200 mila miliardi all'anno hai come minimo due lauree, il colletto bianco e sei nei santuari bancari ed economico finanziari d'Italia che non sono né in Palermo né in Calabria né in Puglia, sono a Milano, in Lombardia. Non vi hanno mai detto una cosa, che la terza regione per il racket non è nella Calabria né nella Campania, è la Lombardia, la terza regione per il racket è la Lombardia. I fatturati della mafia, 200 mila miliardi per poter essere riciclati non li possono riciclare dove non c'è danaro, per cui Provenzano e tutti gli altri sono solo ed esclusivamente una manovalanza. La vera mafia è dove si annida il potere economico politico finanziario e dove si annida il potere? Per poter avere 200 mila miliardi delle vecchie lire di fatturato ogni anno devi avere una sola cosa, devi avere dalla tua i consigli comunali, provinciali, regionali e in Parlamento! Lo sapete quanti sono i parlamentari oggi che stanno usufruendo dell'indulto? I parlamentari che voi pagate, che pagate e che legiferano tutti i giorni per voi, sapete quanti sono quelli che stanno usufruendo dall'indulto votato da loro? Non da Mastella, non fate l'errore, non fatevi prendere per il culo, non è Mastella che l'ha votato, l'hanno votato l'indulto tutti i partiti, meno Forza Italia, no scusate, meno Italia dei Valori, Alleanza Nazionale, Lega e la stensione dei nuovi comunisti, cioè di Liberto. Tutti hanno votato da Forza Italia a tutto il resto della sinistra, a tutti i centristi hanno votato per l'indulto. Bene, oggi in Parlamento ci sono 97 parlamentari che stanno usufruendo dell'indulto, 97 che voi pagate e che legiferano per voi tutti i giorni, 97! Sapete, hanno calcolato che il quartiere a maggior densità delinquenziale in Italia sia forcella? Bene, all'8%, bolle! I parlamentari italiani sono 952, bene, se 97 stanno usufruendo dell'indulto vuol dire che è più del 10%, il quartiere a più alta densità delinquenziale è il nostro Parlamento! Non è forcella! Che domanda mai vi hai fatto? Pantele! Mi parte! Un'altra parte! Un'altra parte! Grazie.